Sindaco D'Emilio, si ricomincia una nuova stagione sportiva per il Pescara Calcio, si ricomincia la Palena, è obbligatorio tornare a portare fortuna a Biancazzurri? Assolutamente sì, dobbiamo andare avanti, dobbiamo dare grandi fortuna al Pescara, ne ha proprio bisogno e spero e mi auguro che Palena sia veramente la località che gli faccia fare questo salto, perché una città così importante come Pescara non può fare a meno di stare in una serie superiore. Forse lo scenario, l'ambiente migliore per resettare e ricominciare? Sicuramente sì, sicuramente sì, specialmente in un paesino come quello che è Palena, che come sapete benissimo è l'Alta Valle dell'Aventino, che ultimamente sta avendo tanto di quei riconoscimenti che veramente fanno inorgogliere chiunque di questa vallata. Iniziamo dal Geoparco dell'UNESCO, quindi abbiamo un misoggio valentologico veramente di rilievo, alla bandiera arancione che ci è stata comunicata proprio ieri, insomma, che la riconferma. Questo per dare giusto un sunto, un'idea di quello che può essere venire a visitare questa località. Insomma, per concludere, bentornati sempre Forza Pescara. Sempre Forza Pescara, veramente bentornati, ma non solo di pescanese, a chiunque vuole, a questo bel angolo d'Abruzzo della Valle dell'Aventino, che è Palena.